Ciao raga, sono Fulmini Marulli e oggi faremo la top 10 dei personaggi più forti in Inazuma Eleven. Al decimo posto abbiamo messo Gazelle, capitano della Diamond Dust. Perché era forte e lei è riuscita a sbriciolare per due volte il puno in giustizia nella seconda stagione di Inazuma Eleven. Al nono posto ho potuto mettere Byron Love, capitano della Zeus e anche dei Fire Dragon. Lui aveva come tecniche micidiali il corpo supremo, la riete supremo e il grande caos. Allora, raga, all'ottavo posto ho voluto mettere Riccardo Di Rigo, ex capitano della Raymond che si trova, vediamo, che stagione è, non lo so. Quarta, quarta stagione, perché dopo c'è la quinta che si chiama Emon Go Chronostone. Quindi me lo vuoi ricordare bene. Lui aveva come tecniche micidiali il tiro sonoro e il suo avatar. Mi ricordo che si chiamava direttore d'orchestra, sì. Poi, raga, dopo di questo che stava al settimo posto, al sesto posto c'è Victor Blade, altro componente della Raymond nella quarta stagione. Ed aveva come tecniche micidiale la stoccata micidiale, un'altra tecnica che non so come si chiamava, e poi la katana chrysanthemum che l'aveva usata nella quinta stagione quando dovevano sconfiggere gli ultrevoluti anche altre squadre, eccetera, eccetera. Al quinto posto, raga, ho voluto mettere Sael, del team dei star che si trovava nel giardino di Celestia. Lui mi stava simpatico e ce l'ho voluto mettere in questa poppa. Aveva come tecniche micidiali, boh, belle fighe. Poi, al quarto posto, raga, ho messo Torch, capitano della Prominence, che aveva come tecniche micidiali la palla di fuoco. Bello figo, bello figo. Al secondo posto, raga, ho voluto mettere Arion Sherwood, che aveva un sacco di tecniche micidiali, come giro di vento, e altre fighe. Poi, al primo posto, raga, capitano della Raymond, Inazuma Jabban, è capitano della Inazuma Legend Jabban, Mark Evans, che aveva come tecniche micidiali, mano di luce, la mano del colosso, il pugno di giustizia, lo scudo di energia, la mano di luce V, e anche il suo avatar, Magico Gigante Grandius, quella è la speciale. E quindi, raga, ci rivediamo a un prossimo video, ciao! Ciao! Ciao!